lo spot degli anni 80 con fabrizio frizzi protagonista condividi su facebook condividi su facebook la lunga carriera di fabrizio frizzi si è aperta con lo spot anni 80 del gelato blog tozeroni il canale youtube tutto spot 80 l'ha pubblicato la gloriosa carriera di fabrizio frizzi ha contato innumerevoli premi e riconoscimenti oltre ad essersi guadagnato l'amore dei telespettatori italiani e la stima dei colleghi il conduttore sorridente scomparso ha sempre dimostrato un'impareggiabile solidarietà e una particolare sensibilità nei confronti dei più sfortunati la scala verso il successo è iniziata dal basso tra i primi ingaggi di fabrizio frizzi c'è quello di protagonista in uno spot del gelato blog tozeroni risalente al 1982 frizzi nello spot del blog tozeroni quello che appare nel video è un fabrizio frizzi piuttosto diverso da come siamo soliti ricordarlo capellone abbronzato con un fisico da 20 n e dei buffi occhiali da sole rossi nello spot lo vediamo a zannare un goloso gelato il blog tozeroni nel tipico scenario estivo di una spiaggia affollata il fantomatico personaggio di frizzi corre lungo la spiaggia sorride a un bimbo che mangia il gelato e si esibisce in un balletto con una formosa ragazza il tutto accompagnato da un motivo musicale stile anni 80 le immagini del blog tozeroni sono intervallate da quelle del presentatore sempre con il sorriso stampato in faccia diritti d'autore riproduzione riservata